Signori membri della Presidenza della Bosnia-Herzegovina, illustri rappresentanti delle istituzioni bosnio-herzegovessi, nella triste ricorrenza del 25esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, mi rivolgo a voi con profondo rispetto e commozione per rendere un omaggio, anche a nome del governo italiano, alle vittime, alle loro famiglie, ai superstiti. 25 anni fa l'Europa fu ferita al cuore. I fatti di Srebrenica furono una sconfitta per i nostri valori comuni. Onorare la loro memoria è per non un imperativo morale. Ripartire dal rispetto dell'umanità. Riconoscere il dolore di tutte le vittime e capire che la guerra e l'atto più disumano sono il punto di partenza per ogni cammino insieme. E' per questo che la giustizia deve fare il suo dovere ed è necessario continuare a perseguire tutti i responsabili delle atroci violenze commesse, perché solo se vi sarà giustizia sarà possibile lenire, almeno in parte, l'enorme sofferenza di tutti coloro che piangono, vittime innocenti, porre le basi per un'autentica riconciliazione nazionale e guardare a un futuro di sviluppo e di integrazione. I cittadini della Bosnia-Herzegovina, più volte nella storia, sono stati vittime di atrocità immense, ma nella confluenza delle loro culture e delle loro religioni possono rappresentare ciò che l'Europa vuole essere. Un luogo dove la diversità è una ricchezza, dove vengono difesi i valori umani e dove i antichi nemici possono ancora unirsi nel nome della vita. Non siete soli in questo cammino. L'Italia è sempre stata al vostro fianco, anche nei momenti più bui. Abbiamo sofferto insieme, abbiamo accolto gli sfollati che fuggivano dal conflitto. Alcuni di loro hanno deciso di rimanere in Italia, sono diventati nostri concittadini. Altri sono tornati in Bosnia-Herzegovina e hanno mantenuto con il nostro paese un profondo legame di forte amicizia. La guerra ha ucciso anche vittime italiane. Gabriele Moreno Locatelli, portavoce di pace, rimasto ucciso mentre cercava di deporre un fiore sul ponte Verbania, a Sarajevo, sul luogo dove l'anno prima erano state uccise Suada Di Liberović e Olga Sucic, Marco Lucchetta, Alessandro Sascha Ota e Dario D'Angelo, giornalisti della televisione pubblica italiana, caduti, lo ricordo, a Mostar mentre documentavano gli orrori della guerra. Ma ricordo anche Sergio Lana, Fabio Moreni, Guido Puletti, uccisi nella Bosnia centrale mentre portavano aiuti alle popolazioni bloccate. Questi italiani erano in Bosnia-Herzegovina perché credevano nella pace ed erano convinti dell'assurdità della guerra. Si riconoscevano nella possibilità di una soluzione pacifica, come i 500 volontari, giunge a Sarajevo nel dicembre 1992 con la Marcia della Pace. L'Italia intera è convinta che la Bosnia-Herzegovina e tutti i Balcani occidentali possano essere un esempio di speranza, di convivenza per tutta l'Europa cui tale regione appartiene. Oggi come allora siamo con voi, uniti da un'immutata amicizia, guardiamo insieme il nostro comune futuro europeo in una prospettiva di pace, in una prospettiva di prosperità. Grazie.